Eccoci qua ragazzi, benvenuti sul mio canale, il primo video che non sia uno short. Ero lì da giorni che stavo pensando, che cosa posso portare? Lo tipo... E poi alla fine ho detto, va bene, portiamo la mia storia, no? Perché ho iniziato a portare video comici o perlomeno, spero di far ridere... Comunque, l'idea era iniziata nel 2020, quando eravamo in tempo di covid, che eravamo tutti a casa e non passavamo tutti quanti un bel periodo, e ho detto, Michael, perché non inizio a fare dei video comici, no? Portare un po' di risate, soprattutto in quel periodo là. E poi ho detto, no, non lo faccio, perché, sono sincero, avevo paura delle critiche. Non volevo farlo perché avevo paura che le persone mi potessero criticare per quello che facevo. E quindi alla fine ho deciso di abbandonare questa cosa qua, anche se in questi anni, dal 2020, era lì che mi gironzolava sempre nella testa, fai video, fai video, fai video. Quando poi un giorno ho deciso di buttarmi tutto questa cosa alle spalle e iniziare a fare video. E da quando ho iniziato a fare il primo video mi sono veramente divertito tantissimo. Mi sto divertendo tuttora, ma la cosa più bella, ragazzi, per me più importante è quello di riuscire a portare risate alle persone. Quando mi scrivete quei commenti dove vi mettete a ridere, raga, quella cosa mi fa veramente sorridere tantissimo, perché siete la mia motivazione, raga. Sapere che riesco nel mio a portare anche un po' di felicità alle persone, questa cosa mi motiva ogni giorno sempre di più. Quindi continuerò a portare video e diventeremo una famiglia, raga, sempre più grande, sempre più grande. Siamo partiti a zero, che era il 21 novembre 2023, ragazzi, e siamo arrivati dopo tre mesi quasi a duemila. È un traguardo importantissimo per me, perché vuol dire che c'è tutto il supporto da parte vostra e questa cosa vi ringrazio veramente tanto, ragazzi, e credetemi, arriveremo anche a un milione, promesso, arriveremo a un milione, ragazzi, saremo una famiglia gigantesca, promesso. E vi voglio ringraziare tantissimo per il supporto. Vi voglio ringraziare per i commenti che lasciate, per i like. Tutto questo, ragazzi, è stupendo. E quindi, ragazzi, io vi voglio tanto, tanto bene. Ci vediamo nei prossimi video. Caricherò in questi giorni. E ciao a tutti, raga. Ciao.